Dovrà attendere un giorno in più la folla di parrucche colorate per sbarcare sulle spiagge della Versiria. Si terrà domenica 17 agosto e non più sabato come annunciato, a Lido di Camaiore il mare si colora di solidarietà con Nico & Friends, il tuffo collettivo lanciato dalla riva di oltre 80 stabilimenti per sostenere la realizzazione di una nuova unità di cura all'ospedale pediatrico Mayer di Firenze. Stretta ad un giorno causa maltempo, ma con questa iniziativa versione estiva si cercherà comunque di ripetere lo straordinario successo di Piazza Duomo quando furono in tanti ad accogliere l'invito dell'associazione Onlus creata dai genitori del piccolo Niccolò Matteucci, il bimbo in cura all'ospedale Fiorentino per una grave malattia. Le parrucche colorate, come ormai noto, sono il segno distintivo della sua lotta e dei tanti che a lui rivolgono un pensiero, un sorriso, una battuta scherzosa, solo per il gusto di aglietare le giornate di Nico. Tutto è nato da una pagina su Facebook che oggi conta più di 78 mila amici, poi l'idea di fare di quel calore virtuale un motore di solidarietà concreta portandolo nelle piazze. La prossima sarà una spiaggia, quella tirrenica del Lido di Camaiore appunto. Il programma della giornata Nico & Friends avrà inizio alle 15 e fino alle 17 tanti giochi in spiaggia in attesa dell'ora X, le 17.30, quando dagli 80 lidi della costa migliaia di capelloni colorati si getteranno in mare in un tuffo flash mob per Nico e per i tanti bambini che combattono ogni giorno la loro battaglia. Le parrucche, per chi ancora non ne avesse una, saranno distribuite dagli stabilimenti balneari di Lido di Camaiore. La voglia di regalare un sorriso, invece, domenica andrà portata da casa.